Signori, un attimo di attenzione, prego. Vi presento il Sargente James Doyle del SOE. Si unirà a noi in questa missione. È uscito dalla scuola di Gilford con un ottimo punteggio. Senza dubbio si tratta di un elemento su cui poter fare affidamento. Per sua fortuna lo abbiamo salvato da una triste esistenza con la RAF nel 41. Ora che le presentazioni sono finite, torniamo a quella che sarà la nostra missione. Ci sono diverse batterie di grosso calibro lungo la costa che stanno mettendo in pericolo il successo dell'imminente invasione della Sicilia, denominata in codice Operazione ASCII. Una che destra particolare preoccupazione si trova qui, a Capomurro di Porco, un piccolo promontorio vicino a Siracusa. Questi cannoni devono essere distrutti prima che le navi alleate possano muoversi in posizione per dare inizio all'invasione. Per farlo avremo bisogno delle abilità speciali di voi uomini della SAS. Verremo introdotti vicino ai cannoni, con una barca da pesca locale. dovremo essere in grado di avvicinarci abbastanza senza destare sospetti. I cannoni sono in un bunker costruito dai tedeschi sotto le rovine di questa vecchia fortezza. Dovremo entrare e piazzare le cariche sui cannoni e nel deposito munizioni. Quindi ci incontreremo con la barca e torneremo alla Alster Monarch. Avete tutti la documentazione, studiatela a fondo. Il successo dell'invasione dipende dall'esito di questa missione. Buona fortuna. Grazie a tutti. Signori, ascoltate. Sembra che siamo riusciti a mantenere l'elemento sorpresa. Appena saremo sbarcati, ci divideremo in due squadre da sala. Doi, tu porterai la seconda squadra a far fuori le guardie nella baracca subito. La prima squadra guidata da me, i covini. Wander? Hoover, Lutis, illuminate quella sentinella. Giù dalla barca, svelti. Capete cosa fare. Guardate giù. Arrivalo. Guardate giù che suono appena supportare l'elemento sorpresa. Guardate giù di far fuori Polletti che s'ilette. Guardate giù stiamo caduta. Guardate giù. Guardate giù. Guardate giù. Guardate giù. Guardate giù. Bel lavoro, Doyle, quella tua squadra ha avvicinatovi il più possibile al bunker Prima di entrare in azione, noi vi copriamo Prima di entrare in azione, noi vi copriamo Tutti i supercamioni, tutti, prendi il volante Bene, una volta nel bunker metteremo fuori uso i palloni e piazzeremo delle cariche nel deposito di un'azione Ma sempre, se trovate documenti importanti, prendeteli C'è un faro sul promotore, dovremo saltare come diversivo per uscire i tedeschi dalla franghezza Signore, questo dannato camion si è spento Accidenti, proseguiremo a piedi È proprio quassù C'è un faro sul Arryparo! Capri capri! Tienchi ultimi strom! Niii! Mi chiesce! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!